Monsignor Girolamo Grillo, come nasce l'idea di mettere nero su bianco, ovvero su carta, quanto è stato da lei vissuto all'epoca delle lacrimazioni di sangue della Madonnina di Pantano? Il mio libro è dedicato a Giovanni Paolo II, senza alcun intervento, mai avrei creduto alla Madonnina di Civitavecchia. Questa è una cosa che forse molti non sanno, e che la Madonnina lì dai Gregori è impianto dal 2 al 6. Ecco, era in questa fase in cui assolutamente ero scettico così, la notte dell'11 febbraio, pochissimo spazio, tra il 6 e l'11, arrivò una telefonata del Cardinal Sodano, segretario di Stato, così, si capisce, c'è il papa di dietro, dice, ma Monsignor Grillo, ma perché sei così duro, ma perché tratti così questa Madonnina, ma perché hai assoluto questa atteggiata? E io rispondo male, nel mio diario ci sono scritte tutte queste cose, dico, non avete altro da parlare in Vaticano, guardate queste stupidaggini, tutte queste madonne che piangono, e nel diario ci è scritta una parola che poi ha fatto riflettere lo stesso Giovanni Paolo, ho detto, ho l'impressione che pure il papa si sia impazzito, così, e gli ho letto un giorno, e lui mi ha detto, parlava lui, lo sa che lei ha fatto bene il vescovo, perché il vescovo nella sua dioce, si accina vecchia così, e come il papa, così, e quindi ha fatto bene a non credere neppure al papa, però io comincio a crollare, ecco, lì comincia il mio dramma, perché dico, ma allora il papa che cosa sa? E io non so, deve sapere, lui attende questo messaggio o lo attendeva, che cosa sa? E quindi io, così, credo, non credo, ecco, il dramma comincia, ecco perché ha per titolo la vera storia di un doloroso dramma, 15 marzo del 95, 15 marzo del 95, incontro, perché piange? Anche lì, io, così, perché mia sorella aveva sentito una telefonata di Don Amorz, e io ne dico, porcia la lettera di Don Amorz, così, Don Amorz, il famoso esorcista di Roma, Sì, è molto conosciuto. Io sapevo questo fatto un anno precedente, a questo marzo, sì, e le cose andano male per l'Italia, se voi non pregate, se voi non credete, ma che dico sciocchia, io gli rispondo male, così, se mi si parlava della Maronina, io rifiutavo, tutte le lettere le buttavo, anche lettere importantissime, forse ne farò conoscere una, in cui proprio quell'anno mi viene detto, non dall'Italia, ma da fuori, ricordi, quello che ha detto Billate di questi giorni, ecco, che se non si risolve il problema palestinese, gli arabi attaccheranno il cuore dell'America, ho scritto queste parole, e me l'ho destinata a Giovanni Paolo, io non credevo, e vedi, il mio dramma, e non l'ho portato, nessuno sa che io ho creduto per Giovanni Paolo, la corba è sua, e quando recentemente ho incontrato il cardinale Sodano, alla Madonnina, perché lui va spesso alla Madonnina, mi ha visto e mi ha detto, Grillo, scrivi tutto, scrivi tutto, così, e quindi, io penso che anche nella presentazione mio, che non ci sarà, lui, perché, non lo sa, è lui che, che dovrà dire certe cose, che nessuno sa, capito, è per la prima volta che queste cose si sanno nel mondo. Grazie. 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 Grazie.